Giuseppe Conte, dopo aver annunciato lo stop di 400 a fine 2021, è pronto a modificare un'altra delle misure cardine del precedente esecutivo giallo-verde, dallo stesso guidato, il reddito di cittadinanza. In particolare si studia una stretta su chi rifiuta il lavoro e sui fondi del Recovery Fund il premiera assicura non siamo in ritardo con il piano e tra metà ottobre avremo le linee guida e a inizio 2021 i progetti. Il 22 ottobre è la data scelta dal Ministero dell'Istruzione per iniziare la prova del concorso straordinario per la scuola. L'annuncio oggi, dopo un incontro con i sindacati degli insegnanti, le prove che riguarderanno 32.000 docenti precari con almeno tre anni di servizio, si terranno fino al 9 novembre 64.000 alle domande di ammissione. È stabile il numero dei contagi in Italia a fronte però di una diminuzione del numero di tamponi effettuati. Dopo Genova e la Campania, nuove restrizioni anche in Sicilia, mascherine obbligatorie e tamponi rapidi per chi arriva dall'estero. Cresce l'allarme in Europa, in particolare in Spagna e Francia, dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università, un milione le vittime nel mondo. A cinque settimane dal voto per la Casa Bianca si surriscalda la campagna elettorale. Domani a Cleveland si terrà il primo duello TV. Alla vigilia il New York Times rivela che Trump non ha pagato le tasse federali sul reddito per almeno 10 degli ultimi 15 anni. Sono solo fake news, replica il Presidente, dato dagli ultimi sondaggi in svantaggio sul democratico Biden. Comunità internazionale preoccupata dall'escalation nel Caucaso del conflitto tra Armenia e Azerbaijan è stata una notte di guerra nella regione autonoma del Nagorno-Karabakh. 39 morti nell'offensiva a Zera contro i ribelli separatisti, tra loro anche civili. Ieri l'Armenia ha dichiarato la legge marziale. Appelli a cessate in fuoco giungono da Russia, Unione Europea e ONU. Una doppietta di Ronaldo salva la Juventus. I bianconeri rimasti in dieci rimontano all'Olimpico. Una Roma sprecona di Veretui, gol giallorossi. Vittorie per Napoli, Milan e Verona che comandano la classifica a punteggio pieno. I partenopei travolgono al San Paolo il Genoa 6-0 ma perdono in signe. Mercoledì i recuperi. Una buona giornata e una buona settimana dal telegiornale della Sette. Ricominciamo dunque dall'agenda politica del Presidente del Consiglio Conte. Ha avuto modo davanti alla platea degli agricoltori questa mattina di riparlarne. Ha parlato di un vero e proprio piano di resilienza. Così l'ha definito una serie di misure, di norme e di buoni propositi per uscire dalla crisi e per risolvere le criticità. Arriveremo a vedere nel corso del telegiornale che parte di questo cammino riguarda anche l'intenzione da parte del Presidente del Consiglio di mettere mano a misure ormai che considera passate e superate. Dunque il reddito di cittadinanza da una parte quota 100 per quel che riguarda il sistema pensionistico. Ma poi c'è un cammino comune da disegnare. Lo vuole fare il Presidente del Consiglio, lo ha detto a più riprese anche con la collaborazione delle opposizioni, l'accesso ai fondi europei, quelli di sostegno, quelli per dare ossigeno alla nostra economia. E su questo c'è un capitolo che riguarda il Recovery Fund, ma poi uno ben più discusso che riguarda il MES. Non siamo affatto in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Una preoccupazione in questo senso e assolutamente le preoccupazioni sono infondate, perché il piano sarà presentato in termini indicati dalla stessa Commissione europea e ricordo che a metà ottobre potremo presentare le linee guida e i progetti andranno elaborati e poi presentati solo con l'inizio del nuovo anno. Nessun ritardo con il piano italiano per ottenere i fondi europei del Recovery Fund, a parola di Giuseppe Conte, oggi davanti all'Assemblea di Confagricoltura, riunita per i cento anni dell'organizzazione degli imprenditori agricoli. Anche a questo settore il Presidente del Consiglio annuncia progetti e interventi. Ma i tempi ci sono, garantisce il Premier. Entro metà ottobre le linee guida, inizio 21, i progetti veri e propri. E intanto si metterà a mano, tra l'altro, il reddito di cittadinanza. Sono le rassicurazioni possibili in un posto a voto agitato dalla tempesta interna ai 5 Stelle, cui corrisponde un pressing forte del Partito Democratico sul governo. Stamattina il segretario PD Nicola Zingaretti ha riunito i ministri Demi, il vice segretario Orlando, il capigruppo di Camera e Senato del Rio e Mercucci, il Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, del Lanci de Caro, delle Provincie de Pascale, per fare il punto sul Next Generation UE e sulle iniziative di partito e di governo, con la spinta per l'utilizzo del meccanismo Salva Stati è il primo punto. È arrivata anche la benedizione del Governatore di Banca Italia, Visco. Le risorse sono disponibili alle migliori condizioni. Accedere a quel prestito può liberare altri fondi per esigenze di spesa diverse dalla sanità. Lo stigma europeo, dice Visco, cioè il rischio di mostrarsi ai mercati come bisognosi di quelle risorse, arriverebbe solo in caso di spesa inadeguata dei fondi. Entro il mese di ottobre il MES dovrebbe comunque, secondo i democratici, approdare al voto in Parlamento, quando ci saranno i conti iscritti della nota di aggiornamento al DEF e poi della manovra triennale, in parallelo con il piano della sanità che il PD sollecita al Ministro della Salute Roberto Speranza. Bisogna deideologizzare lo scontro, getta acqua sul fuoco della contesa PD 5 Stelle e il Ministro della Cultura Dario Franceschini. Vediamo cosa serve alla sanità, quali progetti, quante risorse e poi affronteremo il tema insieme al Recovery Fund. L'alleanza con il PD non è in discussione, ha assicurato Luigi Di Maio. Il Governo deve andare avanti, ci sono i fondi europei da gestire, serve un colpo d'ala. Il Movimento ritroverà unità tra un mese e gli Stati Generali e nessuna scissione. Sul caso poi dello stipendio raddoppiato in piena emergenza del Presidente IMSS, Di Maio dice di non aver perso fiducia in Tridico. La decisione, ricorda, fu presa un anno fa, ma allora la situazione era diversa. Lo scoglio tutto politico sull'accesso al Messe rischia di non essere l'unico che riguarda anche la tenuta della maggioranza e soprattutto l'equilibrio tra PD e 5 Stelle. Le decisioni dello stesso Conte che pure trapelano nelle intenzioni. Da una parte dicevamo la possibilità e la necessità, dal suo punto di vista, di rimettere in mano una delle misure cardine anche della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza e poi il dossier invece che riguarda le pensioni. Anche quello richiede, dal punto di vista dell'esecutivo, un deciso stacco rispetto al passato. Quotacento è un progetto triennale di riforma, non è all'ordine del giorno il rinnovo. Con queste parole il Premier Conte ha liquidato la riforma simbolo della Lega Nord varata dal governo che lui stesso presiedeva. La possibilità di andare in pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi cesserà dunque il 31 dicembre 2021. Al momento sono allo studio possibili meccanismi alternativi che devono comunque costare meno di quota 100. L'ipotesi più accreditata è un'uscita a 64 anni con un minimo di 38 di contributi, accettando però un taglio di circa il 3% della parte di pensione calcolata con il contributivo per ogni anno che serva a raggiungere il traguardo dei 67 anni, vale a dire l'età per la pensione di anzianità. Discorso diverso per i lavoratori impegnati in attività usuranti che avrebbero uno sconto di due anni e penalizzazioni ridotto o nulle. Il dossier previdenziale è comunque in una fase preliminare. Altro discorso invece è quello sulle politiche attive del lavoro e sul reddito di cittadinanza che il Premier vuole cambiare subito perché, così com'è, ha spiegato, è una mera misura assistenziale con il risultato paradossale che spesso incoraggia i beneficiari a tenersi alla larga dal mercato del lavoro. Rischia, insomma, anche il provvedimento bandiera dei 5 Stelle che per ora è un vero e proprio flop. Secondo i dati del Sole 24 Ore, i navigator, che per primi avrebbero dovuto far funzionare il reddito, hanno formalizzato solo 220.000 offerte formative o di lavoro. Nulla rispetto a una platea di oltre un milione di persone legata al patto di servizio. Per dare un senso al reddito di cittadinanza, Palazzo Chigi vuole punire i beneficiari che rifiutano le offerte di lavoro, ma soprattutto vuole finalmente un sistema informatico unico che permetta di incrociare domande e offerta, di collegare, insomma, chi un lavoro lo offre a chi invece lo cerca. Praticamente l'ABC, che tuttavia, ad un anno e mezzo dall'introduzione del reddito, è ancora un miraggio. Ogni regione ha un proprio sistema informatico, che non dialoga con nessuno, mentre è evidente l'urgenza di un'app a livello nazionale. Inoltre non aiuta neppure il cattivo rapporto, qualcuno parla di una vera e propria guerra, che ci sarebbe tra la Ministra del Lavoro Catalfo e il Presidente di Ampal, Mimmo Parisi, l'uomo venuto dal Mississippi per far funzionare l'Agenzia per le politiche attive, per ora con risultati considerati modesti. Per quel che riguarda, dicevamo, l'accesso ai fondi europei, c'è un timing che tocca a noi, come gli altri Paesi membri, dunque prima le linee guida, poi i progetti veri e propri, e la volontà da parte del Presidente del Consiglio, ribadita, dicevamo, a più riprese di collaborare, di avere la collaborazione delle opposizioni, ha detto che è un piano nazionale, va studiato insieme, attraverso anche i passaggi parlamentari, opposizione che in questa fase ha anche da guardarsi intorno dal punto di vista della tenuta della coalizione, c'è una questione di leadership, magari rimessa in discussione dopo i risultati, al di sotto delle aspettative dell'Election Day, ma anche di una possibile svolta moderata, di cui comunque si ragiona sotto banco in queste ore. Dice Salvini, gli altri vogliono farci litigare e invece il centrodestra è unito, ma dice anche, noi siamo il partito che ha preso più voti alle politiche del 2018 e quelle valgono, chi ha più voti guida l'alleanza, e invece qui ogni giorno è un tormentone perché non si vuole più riconoscere questo. Affermazioni contraddittorie, quelle del segretario leghista, che piovono su un centrodestra intento a elaborare un risultato elettorale inferiore alle aspettative e insieme inevitabilmente a interrogarsi sulla propria identità. Un dibattito aperto dal presidente della regione Liguria, Toti, che investe in pieno il leader leghista accusato in sostanza di pensare più a se stesso al suo partito, cioè chi ha il bene della coalizione. Con sottotesto nemmeno troppo implicito, così come messo in chiaro dalla Carfagna. Basta con l'estremismo esasperato di Salvini, troppo centrifugo rispetto a un contesto europeo al quale non possiamo non fare riferimento. Che dietro questo discorso ci siano voglie di governo è possibile. Di sicuro in Salvini c'è la voglia di prendere le distanze dal voto contro la mozione anti-Lukaschenko, in chiave filorussa dunque, espresso dai leghisti nel Parlamento europeo, anche se accompagnata poi dalla smentita di voler confluire nel PPE. Di svolta moderata in casa leghista nessuno vuol sentir parlare, ma l'idea di una segreteria allargata è all'ordine del giorno. E forse anche di questo parlerà oggi Salvini col presidente del Veneto Zaya, il cui successo alle ultime regionali sembra fatta apposta per riportare di attualità il confronto tra le due storiche anime leghiste, quella veneta e quella lombarda. E mentre la Meloni di Fratelli d'Italia resta ferma sul suo chi ha più voti comanda, Forza Italia dice ci siamo anche noi. Anzi, con Berlusconi dice anche di più. Ogni ipotesi di un centro diverso da Forza Italia è inesistente, fa sapere trovando puntuale sostegno nella capogruppo alla Camera Gelmini, la quale esclude una terza gamba moderata al di fuori di Forza Italia. Dopo il fallimento di Renzi e Calenda non ci sono altre strade per rilanciare il nostro progetto. E poi c'è tutto il capitolo che riguarda la scuola, forse quello più problematico nella gestione anche nei giorni che hanno preceduto il ritorno sui banchi. Veniamo da un weekend, in particolare la giornata di venerdì, in cui c'è stato il primo corteo di protesta degli studenti dopo la riapertura, ma la sensazione è che ha problemi nuovi che riguardano la ripresa in sicurezza. Causa Covid se ne aggiungano di vecchi e di cronici quel che riguarda i nostri istituti scolastici, a cominciare dalla carenza di insegnanti ancora più inaccettabile. Naturalmente quella degli insegnanti, i docenti di sostegno, si sblocca oggi uno stallo durato a lungo, quello sulla data per il prossimo concorsone per gli insegnanti. C'è una data, è quella del 22 ottobre, e c'è soprattutto a questo punto con una modalità che vedremo la possibilità di sbloccare la posizione di precari storici da nord a sud. Lo aveva annunciato la ministra Azzolina, il concorso per i docenti ci sarebbe stato entro il mese prossimo. Oggi, dopo un incontro l'ennesimo con i sindacati, è stata fissata la data 22 ottobre, data che sarà indicata domani nella gazzetta ufficiale. In quel giorno si svolgerà la prova scritta del concorso straordinario per gli insegnanti delle scuole medie e delle superiori che abbiano almeno tre anni di servizio dal 2008. 32 mila i posti messi a bando, le domande sono state il doppio, 64 mila di cui il 68% presentate da donne. L'obiettivo del Ministero è di concludere la fase di selezione entro il 9 novembre. La carenza di insegnanti è uno dei problemi più gravi in questa difficile ripartenza dell'anno scolastico, almeno 60 mila quelli che mancano ancora per coprire le cattedre vuote. Ma il concorso non servirà a risolvere il problema, non quest'anno almeno. I precari saranno di ruolo solo dal prossimo anno, con contratto di assunzione 1 settembre 2021, anche se sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dallo scorso primo settembre. È prevista solo una prova scritta che si terrà nella regione indicata nella domanda, ma potrebbe svolgersi in una regione diversa in caso di necessità o peggioramento delle condizioni epidemiologiche. È iniziata una corsa contro il tempo per individuare le aule informatiche disponibili, cosa non facile, visto che per il necessario distanziamento molte vengono utilizzate durante le lezioni. Per garantire la sicurezza, le prove si svolgeranno in più giorni. Per il concorso saranno osservate tutte le misure di prevenzione anti-Covid, mascherine obbligatorie a distanza di un metro, misurazione della temperatura. I candidati che sono in quarantena non potranno naturalmente svolgere il test e non è nemmeno prevista la possibilità di sostenerne una suppletiva. La prova scritta di due ore e mezzo si svolge con il sistema informatizzato, sarà superata con un minimo di 7 su 10 e consisterà nella risposta a 5 quesiti, a risposta aperta più un sesto in lingua inglese. Scettici sindacati che dicono tra la pandemia che ha ripreso ad imperversare e le ormai note difficoltà nella costituzione delle commissioni d'esame, difficile che si riuscirà a terminare le prove entro novembre. Ministra Zolina, che poco fa peraltro si è rivolta a studenti e famiglie dicendo che è importante per tenere le scuole aperte e rispettare le regole anche all'esterno degli istituti scolastici. Come dire, le nostre abitudini quotidiane potranno fare la differenza. Siamo all'ottava settimana che complessivamente registra un numero di casi positivi in aumento. La nostra curva di contagio è fortunatamente stabile rispetto a quel che vediamo anche in stati vicini dell'Unione Europea ma aumentano i focolai da gestire da nord a sud. Ci sono regioni che hanno un rischio più alto di altre dunque negli ultimi ore la Campania, ancora la Lombardia e poi ci sono senza dubbio le misure da prendere anche in funzione delle prossime due settimane che sono quelle in cui prevedibilmente arriveranno anche i primi contagi da banale influenza. Gli ultimi dati sono in leggero calo ma d'altra parte sono diminuiti anche i tamponi. Ieri i nuovi contagiati sono stati 1766 a fronte di 87.714 tamponi processati 17.000 in meno rispetto al giorno precedente. L'andamento della curva rimane comunque stabile tendente all'aumento graduale con una pressione sugli ospedali che continua a salire. Per il Vice Ministro della Salute Sileri però siamo ancora lontani da un'eventuale emergenza sanitaria. In Italia i casi di Covid aumentano molto lentamente e il sistema non è sotto pressione, ha commentato. Ma ci sono regioni che preoccupano più di altri. La Campania continua ad essere al primo posto per il numero di nuovi casi. 245 nelle ultime 24 ore seguito dalla Lombardia, 216, poi il Lazio, 181. In alcune zone come il Lazio e la Campania si sta perdendo il controllo, ha detto Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute e Speranza. Mi aspetto un peggioramento della situazione nelle prossime settimane. Spero non intenso, con più pressione sugli ospedali anche per l'arrivo di raffreddori e influenze. Per questo è importante il richiamo alle precauzioni. L'uso del vaccino antinfluenzale va anche ripresa all'app Immuni che consente un tracciamento dei casi più veloci. E aggiunto, sulla riapertura delle scuole serviranno due settimane per farsi un'opinione anche se la prima impressione è positiva. E intanto si allunga la lista dei governatori che impongono l'uso delle mascherine anche all'aperto. Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ha firmato l'ordinanza che da mercoledì non solo rende obbligatorio l'uso dei dispositivi fuori casa. Il provvedimento prevede anche l'obbligo dei tamponi rapidi per chi proviene dall'estero e i controlli periodici sui sanitari. Una linea comune sulle mascherine non c'è. Le regioni procedono in ordine sparso. Il primo è stato il governatore della Campania De Luca il 24 settembre, che ha previsto anche i test obbligatori all'aeroporto di Capodichino di Napoli per chi proviene dai paesi considerati a rischio. Nel Lazio, il presidente Zingaretti ha parlato di possibili nuovi lockdown. I numeri nel mondo hanno superato la soglia di vittime di un milione per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quel numero si potrebbe raddoppiare. Peraltro, ricordiamo, sono vittime ufficiali. Ci sono zone nel mondo in cui la difficoltà di accertare la causa del decesso è evidente, così come che in ordine sparso si muovono anche gli stessi stati dell'Unione Europea. Per esempio, questa mattina è stata molto diretta la cancelliera tedesca Merkel nel esprimere la preoccupazione. Per esempio, in Germania si viaggia in questo momento con 2.000 casi di nuovi positivi al giorno. Ha detto la Merkel se andiamo avanti così potremmo arrivare a Natale a sfiorare la soglia dei 20.000 al giorno. E poi ci sono anche Francia e il Regno Unito che devono imporsi nuovi stop. La soglia del milione ormai è superata. Sono i decessi causati nel mondo dal Covid-19. Una cifra drammatica che fa da monito sul reale pericolo e il potenziale ancora attivo del virus. Restano gli Stati Uniti il paese col numero più alto di vittime oltre 204.000 seguiti da Brasile, India, Messico e Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore la Russia ha registrato più di 8.000 nuovi casi un incremento quotidiano di contagi in crescita e Mosca continua ad essere la città più colpita con 2.200 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. A Bruxelles il vicepresidente della Commissione Europea Timmermans e la commissaria per la salute Kyriakides sono in auto in isolamento dopo un contatto con persone risultate positive. Nessuno dei due presenta sintomi ma lavoreranno da casa fino al termine del periodo di quarantena. Con 716.000 casi dall'inizio della pandemia la Spagna si conferma nella situazione peggiore d'Europa. A Madrid teatro ieri di proteste contro le restrizioni decise dal governo. Da mezzanotte in nuove aree con milioni di residenti sono vietati gli espostamenti se non per motivi di lavoro, studio, cure mediche. La Presidente della Comunità della Capitale ha comunque annunciato che le misure di contenimento non saranno inasprite per non provocare una ricaduta della crisi economica e se il governo spagnolo dovesse decidere di isolare tutte le località con più di 500 infetti ogni 100.000 abitanti, Isabella Ayuso ha dichiarato che la misura dovrà allora interessare tutto il paese. Il record negativo dei decessi europei spetta invece al Regno Unito che registra finora 42.077 morti collegate al Covid-19 da stamani sono in vigore in Inghilterra le supermulte fino a 10.000 sterline contro la violazione dell'isolamento obbligatorio in caso di contagio o contatto con persone infette. La stretta rientra nelle misure decise per fronteggiare l'incremento dei casi delle ultime settimane. Il Premier Johnson pensa anche ad un possibile lockdown con pub e ristoranti chiusi per due settimane. Londra compresa. In Francia Marsiglia e Ex-Saint-Provence dichiarata zona di allerta massima sono partite le chiusure dei locali pubblici per 15 giorni. A Parigi da stasera dalle 22 sarà vietata la vendita di alcooligi restrizioni scattate anche in tutto il nord del paese con l'obiettivo di evitare che la popolazione organizzi feste in appartamenti privati per aggirare il divieto di assembramenti pubblici. Poi ci sono le elezioni americane cinque settimane alle presidenziali quante volte abbiamo ipotizzato o ragionato sulla possibilità che Donald Trump paghi in termini di consenso la gestione o mancata gestione fate voi dell'emergenza sanitaria negli Stati Uniti ma c'è un altro terreno altrettanto scivoloso e insidioso dal punto di vista elettorale è quello delle tasse delle perdite o dei pagamenti in questo caso mancati da parte del presidente americano che già in passato non ha proprio cavalcato la linea della trasparenza sotto questo aspetto L'uomo con la scritta in oro sul suo aero personale con i grattacieli che portano il suo nome nei quali freggi anche questi in oro abbondano nell'anno della sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti e quello successivo ha pagato 750 dollari in tasse federali poco più di 500 euro ora è tutto chiaro perché per decine di anni Donald Trump le ha approvate tutte per evitare che le sue dichiarazioni fiscali venissero rese pubbliche arrivando fino alla Corte Suprema in questo momento però sono tutte in mano al New York Times i numeri che ne vengono fuori per quanto incredibili non chiariscono la rare ricchezza di Donald Trump ma fanno piena luce sui molti ed aperti conflitti di interesse del presidente degli Stati Uniti Trump per dieci anni non ha pagato neanche un dollaro allo Stato federale non solo in questo momento ha debiti garantiti personalmente con una serie di istituti per oltre 300 milioni di dollari e che nei prossimi quattro anni andranno in scadenza parte dei suoi profitti provengono da investimenti in stati stranieri Turchia, Filippine, India alcuni dei quali nelle mani di governi non democratici stati nei quali il presidente paga 200 volte di più tasse di quante ne paghi nel suo paese l'azzeramento fiscale è dovuto a periodi di perdite gigantesche quello degli anni 80 primi anni 90 con la bancarotta dei casinodi Atlantic City e quello del 2008-2009 con il crollo del mercato dei mutui e dell'immobiliare che hanno portato l'imprenditore new yorkese addirittura ad ottenere un rimborso di 72 milioni di dollari ora contestato dall'agenzia delle entrate la questione è in tribunale in caso di sconfitta Trump rischia di avere un nuovo debito per circa 100 milioni di dollari con il fisco la dichiarazione di Trump però non fanno luce su altri punti scabrosi i 130 mila dollari pagati per il silenzio della pornostar Stormy Daniels per i quali è in corso un processo all'ex avvocato Michael Cohen o i rapporti con Mosca anche se il concorso di Miss Universo tenutosi in Russia nel 2013 si è rivelato quello che ha portato più profitti in un evento spesso finito in perdita i fatti darati dal New York Times sono inaccurati ha commentato l'avvocato di Trump Alan Gartner tutte fake news ha sottolineato il presidente ma alla vigilia del primo dibattito presidenziale Joe Biden ha in mano una nuova arma per conquistare quella classe media sul sito di Biden già va a ruba un nuovo adesivo io pago più tasse di Donald Trump sono ore in cui la comunità internazionale si mobilita per chiedere un immediato c'è stato il fuoco nella zona del Caucaso Armenia e Azzeri che hanno ripreso a combattere dunque torna il conflitto torna anche la preoccupazione che possa degenerare dunque l'ONU la comunità europea e ancora Cremlino chiedono a più riprese che scenda la tensione si torni a dialogare il fuoco sotto la cenere si è riacceso nella notte tra sabato e domenica non si può dire improvvisamente perché Armenia è a Zerbaijan nel Nagorno-Karabakh regione del Caucaso meridionale formalmente a zera ma dal 1991 di fatto in mano ai separatisti armeni continuano a combattersi da quasi 30 anni con il cessato il fuoco del 1994 che è solo parzialmente congelato un conflitto che aveva fatto 30.000 morti e periodicamente torna a riaccendersi in questo caso secondo Yerevan in seguito ad un attacco a colpi di artiglieria e con mezzi aerei da parte a zera contro alcuni centri abitati della regione cui l'esercito armeno avrebbe risposto abbattendo due elicotteri e tre droni e colpendo un carro armato nemico secondo Baku invece sarebbe stata l'Armenia ad accendere la miccia con una serie di provocazioni e attacchi aerei anche contro i civili attacchi che secondo il ministro degli esteri a zero Bayramov avrebbero provocato sette vittime civili 32 invece sarebbero stati i separatisti uccisi nel corso dei combattimenti che sono proseguiti anche nella notte tutte le parti in causa Armenia Azerbaijan e separatisti hanno immediatamente proclamato la legge marziale e la mobilitazione generale inoltre il presidente a zero Alief ha imposto il coprifuoco nella capitale Baku e nelle altre principali città del paese la situazione insomma rischia di scivolare sempre più verso un conflitto aperto che però vista la rilevanza degli interessi in gioco con il caucaso snodo fondamentale delle forniture di gas che dal Mar Caspio arrivano sui mercati internazionali le principali potenze dell'area e non solo non possono che temere la Russia è legata all'Armenia da un'alleanza militare che include molte altre repubbliche ex sovietiche ma non l'Azerbaijan con il quale ci sono buoni rapporti ma che è invece stretto alleato della Turchia soprattutto sul fronte energetico che dell'Armenia è da sempre avversaria per usare un eufemismo un conflitto atavicamente alimentato anche dalle storiche differenze religiose tra l'Azerbaijan musulmano e l'Armenia cristiana la Russia ha chiesto la fine dei combattimenti mentre il presidente turco Erdogan ha puntato il dito contro Yerevan e secondo l'ambasciatore armeno in Russia avrebbe trasferito circa 4000 miliziani dai distretti settentrionali della Siria all'Azerbaijan l'Iran altra potenza regionale interessata ha offerto la sua mediazione il resto della comunità internazionale guarda con il fiato sospeso adesso torniamo sulla morte di Aurelio Visalli sotto capo motorista della nostra guardia costiera lo ricorderete forse era intervenuto per tentare di aiutare due ragazzi in difficoltà a Milazzo un mare in burrasca non ce l'ha fatta subito si sono moltiplicati messaggi di cordoglio un militare eroe ricordato ma poi qualcosa nella morte anomala di questa persona ha fatto scattare prima i dubbi della famiglia poi le vere e proprie accuse per la gestione dell'emergenza più chiara anche nelle immagini che vi mostreremo che precedono il mancato salvataggio motivo per il quale l'autopsia che non era stata prevista invece adesso verrà effettuata la famiglia di Aurelio Vasalli chiede verità i legali della moglie del sotto ufficiale hanno presentato un esposto in procura per capire se tutto sia stato fatto in base alle necessarie procedure vogliono sapere chi abbia autorizzato quell'intervento via terra così difficile perché Vasalli e il suo collega abbiano operato senza alcuna attrezzatura ma anche se i soccorsi per cercare il corpo del militare risucchiato dalle onde siano stati attivati tempestivamente le immagini degli ultimi istanti di vita di Aurelio Vasalli parlano chiaro lui e il collega della guardia costiera sabato erano in costume senza giubbotto salvagente in mano avevano solo una ciambella di salvataggio legata ad una corda che tentavano di lanciare verso il 15enne che era aggrappata ad una boa fino a quando un'onda non ha trascinato via Vasalli in un primo momento non era stata disposta neppure l'autopsia ora invece i magistrati di Barcellona Pozzo di Gotto che hanno già aperto un fascicolo hanno deciso di effettuare l'esame autottico il corpo di Vasalli è stato trovato solo ieri 24 ore dopo quel disperato tentativo di salvataggio dei due minorenni che nonostante il mare in burrasca avevano deciso di divertirsi spiaggia i familiari sostengono che per ore nessuno si sia mosso nessun mezzo sia stato inviato forse le condizioni del mare non lo consentivano neppure i colleghi di Vasalli sono riusciti a tuffarsi per cercarlo ma secondo le prime ricostruzioni neppure gli elicotteri sarebbero intervenuti lo hanno mandato allo sbaraglio sostengono i familiari per ora non risultano indagati ma è possibile che anche per svolgere i necessari accertamenti qualcuno nella catena di comando della locale guardia costiera possa finire nel registro degli indagati mentre dovranno necessariamente essere ascoltati anche i militari che sabato erano accanto a Vasalli i funerali dell'uomo previsti per domani sono stati rimandati nemmeno avanti dopo il caso Becci il cardinale del quale Papa Francesco ha chiesto che dimissioni per una presunta gestione opaca dei fondi a lui affidati il Vaticano sarebbe ora pronta a una sorta di rivoluzione in termini di gestione finanziaria secondo quanto scrive oggi il quotidiano La Repubblica Bergoglio vorrebbe togliere ogni disponibilità alla segreteria di Stato che si trasformerebbe così in una sorta di ministero senza portafoglio per trasformare l'Apsa cioè l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica in una vera e propria banca centrale vaticana nell'Apsa guidata dal Monsignor Galantino confluirebbero anche i fondi dello IOR destinati agli investimenti Adesso torniamo all'emergenza sanitaria vista da un altro punto di osservazione quello davvero complicato nei giorni della pandemia dell'RSA lo sappiamo lì la gestione è stata complicata probabilmente qualcosa non è andato perché il numero delle vittime nei mesi caldi del contagio è esponenzialmente più alto rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti ci sono una serie di inchieste in corso proviamo a fare il punto sono state la prima linea del covid le case di riposo per fare un esempio da gennaio ad aprile l'ATS di Milano che comprende anche il distretto di Lodi ha calcolato che fra gli over 70 ci sono state 5500 morti in più rispetto agli anni precedenti il 46% viveva nelle RSA a Bergamo soltanto nel mese di marzo la mortalità nelle RSA è cresciuta del 700% a Pavia secondo un esposto della CGL i morti da marzo alla fine di luglio nelle RSA sarebbero circa 700 il dato ufficiale è più basso ma fino alla metà di aprile non sono stati fatti i tamponi adesso che il peggio sembra passato i casi sono ridotti e comunque anche gli anziani colpiti dal covid nelle case di riposo si contagiano meno gravemente la magistratura fa i conti con quanto è successo le inchieste la più clamorosa è quella di Milano sul Pio albergo Trivulzio viaggiano verso la chiusura la procura di Milano aspetta per la metà di ottobre la consulenza affidata a un gruppo di esperti si chiede di valutare le misure prese nelle strutture per contenere il covid e l'impatto che possono aver avuto alcune decisioni adottate da TS Regione il riferimento è soprattutto alle delibere regionali dell'8 marzo quella in cui si chiedeva alle RSA di prendere in cura pazienti covid a bassa intensità e quella del 30 marzo che impediva il trasferimento di malati di coronavirus dalle case di riposo agli ospedali l'attenzione della procura di Milano si concentra in questo momento su 32 strutture ma il numero potrebbe allargarsi non ci sarà comunque un maxiprocesso ogni caso darà vita a un singolo dibattimento su un numero sostanzialmente analogo di RSA ricade l'inchiesta della procura di Pavia qui sono 38 le strutture sotto indagine i reati ipotizzati epidemia colposa omicidio colposo più le malattie professionali degli operatori che si sono ammalati e hanno denunciato finora sarebbe stata accertata una totale impreparazione al rischio covid assenza di dispositivi di protezione mancato isolamento dei contagiati l'inchiesta che guarda anche al ruolo giocato dagli enti istituzionali dovrebbe arrivare alla conclusione prima della fine dell'anno c'è poi l'inchiesta della procura di Bergamo che ha anche i fascicoli aperti sulla mancata zona rossa la riapertura a lampo dell'ospedale di Alzano e le centinaia di casi di malattie professionali il Codacons ad aprile aveva inviato un esposto su una decina di RSA ma i magistrati stanno valutando le cartelle cliniche dei morti in 65 strutture i pubblici ministeri hanno agli atti anche la lettera spedita dall'ATS che ancora ai primi di marzo diceva alle RSA di tenere aperti i centri di urni minacciando in caso contrario il ritiro delle convenzioni col servizio sanitario regionale ci sarebbero già diverse persone iscritte nel registro degli indagati ci fermiamo con questo solo per la pubblicità naturalmente c'è l'ampia pagina sportiva tra poco di nuovo insieme vi dicevo la pagina sportiva il calcio la sensazione che non bisognerà attendere neanche mercoledì giornata in cui pure torneranno in campo le squadre che hanno fatto slittare il primo turno per capire che sarà una corsa al vertice piuttosto affollata perché l'Inter il Milan l'Atalanta il Napoli la Lazio non hanno steccato le partenze e soprattutto perché c'è una Juventus evidentemente quella targata Pirlo ancora a caccia di un equilibrio sostenibile in un campionato di così grande vertice con la sfida quella contro la Roma in cui Pirlo deve ancora una volta ringraziare Ronaldo non la stessa cosa almeno per quanto riguarda ieri sera può fare la Roma con l'uomo più atteso Geco sono bastati 180 minuti per intuire che quest'anno difficilmente lo scudetto sarà un monologo bianconero per due ragioni prima la Juve è un cantiere aperto e la sensazione è che lo sarà ancora a lungo seconda è cresciuta la concorrenza non solo Inter Lazio e Atalanta ma anche Napoli e Milan appaiono attrezzate per partecipare alla lunga volata per il titolo nella notte dell'Olimpico se c'è una squadra che può avere quella è la Roma che per un'ora ha fatto meglio della Juve non sfruttando però il vantaggio di giocare l'ultima mezz'ora con l'uomo in più per l'espulsione di Rabiot e soprattutto fallendo il colpo del K.O con l'uomo più atteso Geco per lunghi tratti la nuova creatura di Pirlo è sembrata simile alla peggiore Juve di Sarri fragile nell'interdizione e noiosa nella costruzione per salvarsi si è aggrappata Cristiano Ronaldo serve l'uomo in grado di accendere la luce McKennie è un buon incontrista e poco più rabbiosi fatica a capire cosa sia non è un caso che il gioco sia migliorato con l'ingresso di Bentacur e Arthur inoltre l'esordio di Morata non ha giunto nulla anzi ha finito per togliere spazio a Kulusevski insomma la quadratura del cerchio è ancora lontana e il tempo a disposizione non è poi tanto domenica allo stadium arriva il Napoli di Gattuso che viaggia a punteggio pieno altra vittoria convincente Genoa demolito tutto funziona perfettamente il neo acquisto si menne perfetto nel creare spazi Lozano è un altro giocatore rispetto a quello bulico di un anno fa e Mertens non smette di segnare punteggio pieno anche per Milano e Verona i rossoneri sono imbattuti da 17 partite Pioli si è messo alle spalle Carlo Ancelotti che nella sua ultima stagione rossonera ottenne 16 risultati utili consecutivi l'assenza di Ibra almeno per ora non sembra pesare anche se a Crotone c'è voluto un rigore di Chessi per superare la resistenza dei calabresi a chiudere i conti nella ripresa Brahim Diaz che può essere una delle sorprese del torneo al Verona è bastato il primo gol in A di Favilli per battere l'Udinese e ottenere il primo successo sul campo dopo quello a tavolino sulla Roma la seconda giornata termina stasera con Bologna-Parma mercoledì sono in programma i recuperi della prima giornata tra i quali spicca Lazio-Atalanta che fornirà altri piccoli indizi per decifrare un campionato che già ora pare difficile per tutti bisognerà fare i conti con la variabile Covid non solo la possibilità di effettuare cinque cambi avvantaggerà le squadre meglio attrezzate la forbice tra le più forti e le altre sembra destinata ad allargarsi E' stato protagonista di tanti Roma-Juventus del passato peraltro con tanti gol Gonzalo Higuain lo sapete approdato al campionato statunitense beh non certo un esordio da ricordare quello dell'ex campione della Juventus vi facciamo vedere le immagini perché prima Gonzalo Higuain nell'Inter Miami è stato sconfitto per 3-0 l'attaccante ha sbagliato il rigore tirando altissimo e lo vediamo eccolo qui il penalty calciato non brillantemente dall'attaccante ex-Juventino e ha sfiorato la rissa poi con alcuni giocatori avversari che gli hanno festeggiato in faccia Higuain non ha gradito la mancanza di rispetto ha cominciato a spintonare alcuni avversari di certo dunque non in modo migliore per presentarsi ai suoi nuovi tifosi per l'attaccante uno stipendio da 5 milioni e mezzo è il calciatore più pagato dell'intero campionato a stelle e strisce torniamo invece a casa nostra per quelle che sono state ultime ore roventi un botta e risposta che non accenna a placarsi quello tra il presidente del CIO BAC e il ministro dello sport il nostro ministro dello sport spadafora oggetto la legge dello sport e soprattutto dal punto di vista del CIO un'ingerenza del governo negli affari sportivi italiani che metterebbe a rischio addirittura la partecipazione e la preparazione olimpica dei nostri attivati a Tokyo sarà probabilmente l'ultimo tentativo per riconquistare l'indipendenza lo sport contro il governo BAC presidente del comitato olimpico internazionale e Giovanni Malagò presidente CONI contro Vincenzo spadafora in ballo ci sono i 400 milioni e spicci che da sempre venivano elargiti all'ente sportivo italiano per la gestione e risoluzione di tutti i problemi connessi al mondo dello sport spadafora ha interrotto questo flusso deviandolo in una nuova società sport e salute fotocopia del CONI che di fatto ha fatto diventare inutile il vecchio ordinamento le chiamano scatole cinesi una società dentro l'altra per operare con maggiore velocità senza interferenze lo scontro è aspro e al momento non prevede una risoluzione a breve perché BAC contesta la validità di tutto il progetto denominato riforma dello sport che secondo il massimo dirigente olimpico non prevede più autonomia un requisito da cui non si può prescindere dettato dalla storica carta olimpica una specie di costituzione dello sport riconosciuta in tutto il mondo e in qualunque paese con qualunque regime il mondo sportivo più forte della politica le connessioni sono all'ordine del giorno le invasioni da una parte e dall'altra anche scandali a parte la forza dello sport è stata sempre quella di ragionare senza influenze politiche ma forse oggi il business è diventato troppo grosso e fa gola a tutti mercoledì i presidenti delle federazioni sportive italiane si incontreranno a Roma nella sede del CONI per discutere con quale strategia affrontare il problema la scorsa settimana il consiglio nazionale del CONI ha bocciato a maggioranza la legge delega di riordino dell'ordinamento sportivo di Spadafora ognuno va avanti per la propria strada fra due giorni il ministro incontrerà i partiti di maggioranza il rischio è che senza l'accordo con BAC il CIO le olimpiadi sono a rischio e la partecipazione degli atleti italiani dovrebbe avvenire senza la bandiera tricolore ci fermiamo con questo vi lascio adesso come sempre a Tagadà vi ricordo l'informazione di Tornare 20 noi se volete domani alle 13.30 una buona giornata a tutti voi di Tornare 20 di Tornare 20 di Tornare 20